I carabinieri della stazione di Marsala hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e contestuale di vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima emessa dal GIP del Tribunale di Marsala nei confronti di un 19enne del posto presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia contro la madre. Il provvedimento scaturisce da una immediata attività d'indagine a seguito di una richiesta di aiuto della vittima che esausta dagli atteggiamenti violenti del figlio durante l'ultimo episodio aveva chiamato i carabinieri in quanto il 19enne l'aveva percossa e aveva rotto numerosi oggetti e suppellettili presenti in casa. In pochi istanti un equipaggio dell'arma è giunto presso l'abitazione della donna con il giovane che in evidente stato di alterazione psicofisica ha sferrato un calcio allo sterno di uno dei due carabinieri che ha riportato lievi ferite. In quella circostanza il ragazzo è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, minacce e resistenza a pubblico ufficiale.